Il problema c'è, la soluzione proposta va migliorata ma non con campagne di propaganda. Anche la funzione pubblica della CGL Lecco, della CISL Monza-Brianza-Lecco intervengono sul dibattito in corso in merito alla gestione dei parcheggi dei dipendenti dell'ospedale Manzoni di Lecco. I posti disponibili nel Silos non sono sufficienti, cosa che oggi crea problemi di sicurezza. Per risolvere la situazione la SST ha preso in affitto un parcheggio in Viena Siria secondo quanto stabilito dalla direzione aziendale, i 650 posti a disposizione in ospedale saranno di chi arriverà per primo. Tutti gli altri lavoratori dovranno poi parcheggiare nel Silos decentrato una modalità contestata da alcune sigle sindacali. La proposta aziendale di individuare un parcheggio aggiuntivo, dichiarano però CGL e CISL è un importante passo in avanti verso una concreta risoluzione dei problemi. Certamente, come abbiamo più volte dichiarato, è una proposta che necessita di importanti integrazioni come per esempio l'introduzione di una navetta e una gestione flessibile dell'ingresso dei dipendenti. Bocciata invece la soluzione proposta dalla UIL è sottoscritta ad 850 dipendenti di destinare il parcheggio decentrato agli amministrativi e alla dirigenza e riservare al personale operativo il Silos del Manzoni. Siamo convinti, proseguono CGL e CISL, che il confronto debba proseguire con chiarezza e trasparenza tra le parti impegnate al tavolo negoziale, sia nel metodo che nel merito. Condividiamo la necessità di trovare un metodo che non discrimini e divide i lavoratori per categorie e professioni. L'accesso al parcheggio è un diritto di tutti i dipendenti, la sua regolazione deve essere funzionale al tipo di attività del servizio prestato. Siamo contrari, concludono i sindacati, a qualsiasi iniziativa che ponga divisioni discriminatorie tra i lavoratori. Tali proposte sono inaccettabili.